Amici interconnessi all'ascolto, buonasera da Alberto Fiano, qui su Radio Roma Sport. Bene, il punto sulla Roma. Innanzitutto mandiamo un doppio augurio al capitano Francesco Totti, visto che esattamente fra 35 minuti taglia le 39 candeline e perché speriamo che l'infortunio oggi riportato non sia nulla di grave e gli mandiamo un grosso in bocca al lupo. Per quanto concerne oggi Roma Carpi, vittoria doveva essere e vittoria è stata, però purtroppo pagata a caro prezzo, visti l'infortunio appunto appena citato di Francesco Totti, di Edin Dzeko e di Seiduc Keita. Quello meno preoccupante sembra essere del centravantis bosniaco, un trauma distorsivo al ginocchio che però magari in 10-15 giorni o forse anche meno dovrebbe farlo tornare abile e arruolabile nelle file di Rute Garcia. Però ovviamente aspettiamo gli accertamenti del caso che si svolgeranno nelle prossime 24 ore. Più seri purtroppo, visto che si tratta di flessori, l'infortunio a Keita e a Totti. Le prime diagnosi danno un 30-40 giorni di stop, però speriamo che domani gli esami appunto a tal riguardo diano previsioni più ottimistiche perché entriamo in un momento cruciale della stagione e quindi ovviamente dobbiamo avere tutto l'organico a pieno regime perché gli impegni saranno tanti, ravvicinati e anche ognuno con le proprie insidie e difficoltà. In quanto a difficoltà diciamo che il 5-1 di Roma Carpi non deve trarre l'inganno poiché la Roma nei primi 20-25 minuti di gioco del primo tempo, prima che sbloccasse lo 0-0 iniziale, ha avuto le solite difficoltà, ha palesato una velocità di manovra non proprio fulminia, troppi passaggi orizzontali, poche verticalizzazioni, poche idee e quindi Berkic, l'estremo difensore del Carpi, non ha corso poi tanti pericoli. La gara si è sbloccata con un gol fortuio perché un tiro di Digne dalla distanza ha scaturito un batte e ribatte in aria che poi Manolas da dentro l'area piccola dell'area di rigore ha trasformato in gol. Da lì la Roma si è tolta di dosso le tensioni che la tanigliavano prima della partita. Ricordiamo che la curva sud è non entrata per le note polemiche contro le restrizioni volute dalla prefettura nella curva e quei 25-30 mila che erano su di spalti alla lettura delle formazioni hanno fischiato molti elementi della compagine giallorossa, in primis De Santis il portiere per poi anche andare su Manolas appunto, su Gervinio fischiatissimo e anche sul mister Rudy Garcia. Questa vittoria il fatto ha voluto che questi giocatori finiti negli occhi del ciclone abbiano avuto il loro riscatto. Parliamo appunto di Manolas che tra virgolette sbloccando una gara che si stava mettendo male, visto che non riuscivamo a segnare, ha avuto il merito di farsi trovare pronto in aria e di andare a fare l'1-0 giallo rosso. Infatti la sua esultanza è stata davvero molto euforica. Per quanto concerne poi Gervinio, oggi tra i migliori in campo, autore anche del terzo gol. De Santis, non impeccabile, il suo intervento anche questa volta sul classico gol dell'ex di Boriello, quest'ultimo applaudito anche dai difusi giallorossi, si è fatto poi riscattare appunto parando i rigori di Matos che poteva portare il Carpi sul 5-2. Da sottolineare anche l'ennesima protezza balistica ormai su punizione di Milan e Pjanic, un classico della casa, e anche il primo gol in maglia giallorossa dell'esterno francese Lucas Digne, che ha firmato appunto il 5-1 finale grazie a un ottimo assist di Maicon sulla fascia dopo una triangolazione con Mohamed Salah. Tutto la maggior parte di questo punteggio avviene nel primo tempo, dove la prima frazione si chiude 3-1 appunto. Nella ripresa è più accademia e dopo il 5-1 non succede più di tanto. La Roma cerca di non farsi male, di non avere altri infortuni. Positivo anche l'esordio di Vanquer, anche se la gara non era così probante e quindi andrà verificato il centrocampista francese, anche in test più attendibili e con più alto coefficiente di difficoltà. Però l'importante era vincere, soprattutto per portare serenità in vista della trasferta difficile ed importantissima di martedì 29, quando la Roma scenderà in campo nella Borisov Arena di Bialorussia contro i loro campioni locali del Bade Borisov appunto per la seconda giornata di Champions League del Girone E. Diciamo dall'Olimpico, tra virgolette, per quest'oggi è tutto. Vi diamo appuntamento per le prossime edizioni e vi ricordiamo sempre l'appuntamento in cui seguirci. Sta per tornare il lunedì e il venerdì mattina sul canale Springer Tribunale On Air, pronostico On Air, appunto la trasmissione condotta da Guglielmo Timpano con il sottoscritto in studio, con il affiancato anche dal grandissimo esperto anche in social perché anche i diffusi che ci seguono e volessero interagire hanno un professionista in tal senso e anche ottimo opinionista Flavio Maria Dastotti dove interverranno anche telefonicamente personaggi illustri del giornalismo sportivo romano e anche qualche ex giocatore Vecchia Gloria di Roma e della Lazio. Vi ricordiamo l'appuntamento sempre con il mio amico Guglielmo Timpano in diretta TV ogni venerdì sera su Rete Oro, canale 18 del Digitale Terrestre, nella trasmissione sportiva più seguita, ossia il Tribunale delle Romane, ogni venerdì sera in onda appunto dalle 21.30 alle 24, sempre il venerdì pomeriggio, immancabile. L'appuntamento con la Web Radio, Step Radio e RDA Radio con Stefano Tini e soprattutto il mitico e grande, ottima persona e eccellente professionista Roberto De Angelis a questa e la Roma. Quindi è un appuntamento immancabile ormai da anni della Web Radio Romana e vi ricordo anche per chi volesse intraprendere anche a livello amatoriale la scuola di recitazione teatrale che è una persona a me molto cara, un'amica e eccellente lei professionista nel suo campo come professoressa di edizione e logopedia ed anche nonché bravissima cantante e bravissima attrice già con varie esperienze teatrali, Annalisa Peruzzi sta indicendo un corso appunto di recitazione in tal senso, quindi per chi amasse questo modo di fare arte vi invito ad andare sulla sua pagina Facebook o sulla sua pagina Twitter anche per cercare informazioni a riguardo perché è veramente un corso a livello professionale, amatoriale ma molto ben strutturato con insieme anche ottimi professionisti in tal senso dell'arte teatrale della recitazione. A queste tre persone, ossia Guglielmo Timpano, Roberto De Angelis e Annalisa Peruzzi, io nonché anche cari amici, cari amici miei, e che sono onorato di avere appunto questa amicizia con loro perché sono persone meravigliose, oltre che ripeto straordinari professionisti dei loro campi, mando i miei più grandi saluti e abbracci. Come anche a voi, cari ascoltatori, auguro una buona serata, un nuovo weekend, ricordandovi di seguirci negli appuntamenti che vi ho appena citato e quindi mi raccomando seguiteci perché avremo sempre più novità e servizi sempre più ampi per soddisfare ogni vostra esigenza e richiesta. Buonanotte e chiudo sempre con il mio tipico Daie Roma Daie. A risentirci, a presto, ciao!